Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti simili a questi ragazzi in questo nuovo video vi spiego come abilitare, disabilitare, rimuovere del tutto anche BitLocker anche se BitLocker è una protezione dei nostri dati sul disco quindi ci aiuta ad afforzare così la protezione del nostro disco e come potete vedere sul mio SSD questo lucchetto l'ho appena aggiunto pochi minuti fa e l'ho attivato attraverso gestione BitLocker come potete vedere attiva BitLocker su qualsiasi disco nostro e per attivarlo ci vuole una password quindi attiviamo il nostro BitLocker salvo nell'account Microsoft, avanti, applica criptografia solo allo spazio, vi consiglio questo, vi consiglio questa nuova modalità avvia criptografia esegui controllo sistema BitLocker e riavviamo così in seguito ok poi per vedere se il nostro BitLocker è operativo, è attivo sul nostro disco andiamo su Windows PowerShell e esegui come amministratore vado sul comando che ho salvato, vado su manage BDE status copio questo comando, lo incollo qui facendo CTRL V vi farà vedere tutta la protezione del nostro disco come potete vedere 465 giga sarebbe questo disco qua ok, quindi la protezione dello stato è attivata ok, BitLocker è attivata invece se in caso vi siete, non so, dimenticati della password o volete disattivare questo BitLocker molto semplice facciamo disable BitLocker mi raccomando questa lettera questa lettera è del disco quindi CTRL V questa lettera qui è il mio disco quindi voi dovete mettere la vostra lettera ok e faccio invio faccio questa cosa così poi prendo quest'altro comando ok ok faccio CTRL V ma questa volta vabbè non è la lettera F ma è la lettera E due puntini invio decrittografia in corso vediamo di tempo ok una volta fatta la ok una volta fatta la decrittografia abbiamo fatto abbiamo tolto anche BitLocker quindi l'ho disattivato attraverso questo comando Windows PowerShell si attiva attraverso gestione del BitLocker quindi ragazzi per persone che vogliono disabilitare questa BitLocker questa protezione questo è il metodo invece per abilitare questa procedura è molto semplice andate su gestione BitLocker fate sempre avanti e aggiungete anche una password ok quindi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao